Un'eccezionale successione di aurore boreali nel cielo del Canada ha stupito le popolazioni di alcune fra le regioni più al nord. Una danza di luci nel cielo, l'aurora boreale, uno spettacolo che lascia a bocca aperta. Il cielo si tinge di colori accesi, dal verde al viola fino al rosso, colori che mai ci aspetteremo di trovare nel cielo. Eppure la natura sa ancora stupire, creando uno spettacolo immaginabile solo nei migliori film di fantascenica. Secondo i vichinghi l'aurora era dovuta ai riflessi del sole sugli scudi delle mitiche valchirie, mentre per gli Inuit un gruppo di eschimesi era dovuta alle scie lasciate dalle capriole fatte dai bambini mai nati. In realtà le aurore boreali sono una tempesta solare provocata dall'impatto di particelle di elettroni e protoni nel nostro campo magnetico. In tal modo l'atmosfera produce le caratteristiche e bande dal colore rosso, verde e azzurro tipico delle aurore. La NASA e numerosi istituti internazionali di ricerca sostengono che nell'inverno 2012-2013 l'attività solare toccherà uno dei suoi apici.